Aveva già collezionato tre ergastoli il capo dell'ala stragista del clan dei casalesi Giuseppe Setola che la prima sezione del tribunale di Santa Maria Capoavetere preseduta da Raffaello Maggi ha condannato ad altri 29 anni. Il processo lo vedeva imputato con altre 34 persone di reati che vanno dall'associazione camorristica all'estorsione al tentativo di omicidio e alla detenzione illegale di armi. I PM avevano chiesto la condanna a 30 anni di reclusione. Pene molto severe per un totale di più di 300 anni di carcere sono state inflitte anche agli altri imputati tra i quali tutti i componenti il gruppo di fuoco capeggiato da Setola. In aula quando è stata letta la sentenza oltre ai PM di udienza Catello Maresca e Cesare Sirignano erano presenti il procuratore aggiunto Federico Caffiero De Rao e il pool di sostituti che indagano sul clan dei casalesi. Noi continuiamo a lottare con impegno, con passione, con dedizione e sacrificio perché questo lavoro è la nostra vita però vorremmo che anche altre parti dello Stato ci stessero vicino e soprattutto ci messessero in condizione di poter raggiungere risultati come quelli di stasera che sono risultati bellissimi in merito dell'azione congiunta dei magistrati e Polizia Giudiziaria che ci è stato sempre accanto in ogni momento, nei momenti più delicati. Il sottosegretario all'interno Alfredo Mantovano dal canto suo ha commentato La condanna di Giuseppe Setola dimostra che lo Stato risponde in concreto alla ribellione degli onesti contro il ricatto del crimine organizzato.